Vabbè raga io penso che la scelta di questo beat confermi tutto quello che ho detto precedentemente su questo ragazzo, il buon Dardust che giustamente quando ha visto la performance l'ha visto così lui come è fatto, come ha affrontato la base, ha visto il contesto, ha visto sicuramente il dinero che si può fare con questo ragazzo, con questo prodotto. Ha fatto bene a far capire che comunque si è voluta giocare su questo beat così, ha voluto portare questo inedito, un reggaeton in cui non ha raccontato molto di sé, in cui si è soffermato sull'aspetto più commerciale della musica. Sì insomma chiudiamo questo ciclo di recensioni su Blind dicendo quello che ho sempre detto ovvero che è un ragazzo che sicuramente può vendere, un ragazzo che ha una sua sensibilità che in questa situazione ha voluto nascondere, quindi si è voluto diciamo cimentare in questo stile un po' più menefreghista che comunque la sua forza era anche farsi sentire, quindi figuriamoci se io magari posso preferirlo a personaggi con voci pazzesche come Blue Felix e via dicendo. Però mi rendo conto che è un prodotto che funziona, mi rendo conto che hanno deciso di lanciarlo, comunque serve un rapper a X Factor, e quindi di conseguenza lui l'hanno etichettato è perfetto, ha la faccia da bello e dannato, mezzo ultimo, mezzo Gallagher, no 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 scherzo, e sta lì, è musicale comunque, però anche Emma che lo guarda mentre lui ripete la frase da ritornello, e lo guarda stupito come se stesse cantando in soprano, cioè nel senso tranquillo, cioè a me non mi è sembrato nulla di che neanche oggi, lo so che adesso ci ho beccato la shitstorm, che tutti quanti i fan di blinde mi stanno vessando da settimane, io non riesco neanche più a parlarne liberamente di sto ragazzo perché non mi va neanche di attaccarlo, non ce l'ho con lui, sembra che ce l'ho con lui, ma ragazzi nel senso, cioè almeno anche sta botta non mi è sembrato veramente nulla di che, cioè poteva dimostrare tanto di più, poteva fare tanto di più, ma io chi sono? Non sono nessuno, sono uno che sta qui dietro un microfono a parlare, lui sta lì, sono il rosicone, quindi cioè, ma a me che mi costa dire sto ragazzo spacca, che mi costa? Niente, quindi che devo fare? Bravo, bellissimo, intelligentissimo spacca, mi hai preso una base sputtanatissima di una hit famosissima, mi ci hai detto quattro cazzate in croce, che cosa dovrei dire? A parte sì è musicale, sì lo lanceranno, sì venderà, sì magari spaccherà, per carità può spaccare, ha voglia, chi lo nega, è tutto, però che devo dire? Che sta performance ha spaccato, che sta canzone ha spaccato, che la scelta è giusta, cioè ho tutti quanti, oggi ho stato bravo con tutti, ho cercato, pensate alle under donne, che cazzo di talenti che ci stanno, cioè è il rap che funziona, è il rapper che funziona sempre in questi contesti, se c'ha un minimo di cuore, e sto ragazzo il cuore ce l'ha, ok, però io non so neanche come devo esprimermi, cioè ma che roba è? Mi ti presenti alla Last Call di X Factor con sto beat? Paraculata o stupidità? Non lo so, è chiaro che poi questo è già stato scelto, è già stato preso, prima ancora di dargli l'ok, io sto facendo la recensione appena ha finito la performance, quindi non lo so se lo prenderanno o meno, ma l'hanno già preso, basta, non c'è nulla da dire, lo lanceranno, sicuramente tirerà fuori degli inediti perfetti, è un'Anastasia un po' più street, nulla più, nulla meno, se lo mettiamo nel contesto rap non vale un cazzo, punto.